In comune la conferenza di presentazione degli aggiudicatari del nuovo appalto di ristorazione scolastica. Ma questa mattina si è parlato anche dell'introduzione dell'acqua di rete nelle mense scolastiche, nei dini d'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del comune di Parma. Così sono state illustrate molte importanti novità. Gli indirizzi fondamentali, oltre a chiedere dei prodotti che siano più qualitativi, che ci sia un 70% di biologico, che ci siano prodotti che siano intorno a un raggio di 100 km, questo anche per favorire le aziende locali che producono intorno a Parma, e poi un controllo per tutto quello che riguarda anche il lavoro che viene fatto all'interno delle scuole per l'educazione al mangiare, perché il momento del pasto è anche un momento conviviale e quindi i bambini devono imparare a saperlo godere e gestire. Poi l'utilizzo dell'acqua di rete nelle mense scolastiche con i relativi rigorosi controlli. Intanto i controlli sono fatti da più livelli. C'è il livello appunto quello dell'ASL, c'è il livello di IREN, c'è il livello delle società che hanno acquisito l'appalto per la ristorazione, c'è la ditta di controllo multiline che è la ditta che ha appunto in appalto i controlli sulle mense e quindi anche sull'acqua. L'acqua, così come è stato definito per quanto riguarda il protocollo che noi abbiamo firmato come comune insieme all'università, insieme alla ASL, insieme a IREN e insieme a tutti coloro che a diverso titolo si occupano dell'acqua, definisce appunto tutte quelle che sono le norme e l'importanza anche dell'utilizzo dell'acqua di rete. Grazie.